Più investimenti, tasse invariate. Questo in sintesi il contenuto del bilancio di previsione per il 2017 del Comune di Forlì, che verrà vagliato in Consiglio Comunale a metà febbraio. Le entrate estimate sono pari a 125 milioni di euro, di cui 32 dall'Imu, 22 dall'Atari, 10,8 dall'Irpef e 16 milioni e mezzo derivanti dal Fondo di Solidarietà. Le risorse provenienti da Roma e dalla Regione caleranno di ben 2 milioni e mezzo di euro, riviste al ribasso anche le entrate da contravvenzioni stradali da Imo, ma la Giunta può vantare di aver ridotto il debito del Comune. Rispetto ai 125 milioni del 2013, infatti, i dirigenti comunali spiegano che il disavanzo diminuirà nel 2017 da 98 a 94 milioni, con l'obiettivo di raggiungere quota 86 nel 2019. La vendita delle azioni di ERA ha contribuito inoltre a ripienare il disavanzo di cassa in anticipo di un anno rispetto alla scadenza. Per quanto riguarda il trasporto pubblico, nonostante un calo importante degli introiti della Regione, il Comune Romagnolo investirà 142 mila euro per mantenere e migliorare i servizi. Sotto il profilo degli investimenti, 45 milioni sono stati destinati al prossimo triennio, prima di tutto a culture e sport. Tra gli edifici in cui sono programmati i lavori ci sono l'ex Santarelli, il San Domenico, Palazzo Romagnoli e la riqualificazione del ginnasio sportivo e dell'ex Gil, oltre alla ristrutturazione di alcune scuole. Sotto il profilo sociale, infine, il Comune punta a rilanciare le case in centro storico e concederà sgravi a chi ristruttura le abitazioni, oltre a fondi destinate alle famiglie più povere.